Ciao a tutti ragazzi, sono sempre il vostro amico Fremanticicuiti e vi parlo del clan in Ternicard Game Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte del box di Spiral Force Vediamo i nostri 5 pacchetti come al solito Box veramente fantastico finora Le holo sono veramente molto belle ragazzi Abbiamo già trovato iDragon,Dragonite e la Ace Pack Speriamo che in questa parte ci riserva qualcosa di buono Buono, buono, buono Spero di trovare dati al sex perché mi piace veramente moltissimo Primo pacchetto, aspettiamo li mettiamo qua Qua, 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 qua Bene, prendiamo pacchetto, forbici Allora, dita incrociate Vai Ticket track, cartoon Gelatino, ice cream questo lo chiamiamo Poi, Beldum Carina questa, Beldum Oh, Maguita, questo lo so Maguita Quindi l'altro era Hariyama Che l'altra volta non lo sapevo E Flareon Che ci mancava ragazzi, ovviamente molto bello Guarda, sembra che ti viene addosso, guarda Fantastico, fantastico Vai Secondo pacchetto Apriamolo da sotto questo Apriamolo da sotto Perché certi li apro da sopra, certi li apro da sotto E vai Allora, trick and track Oh, bello, questo mi piace Vaporeon Evo detto che qua ci stanno tutte le evoluzioni divi dentro sto box Poi Non mi ricordo Metang Ovunque Zuelius non mi ricordo Metang Cacnea E ho Umbreonolo ragazzi Umbreonolo Un'altra carta fantastica di questo set Umbreonolo Devo dire che però In Spiral Force ci stavano le X Che erano molto belle Ma qua le X Le Olo sono molto più belle di In Thunder Nackle Lo devo ammettere ragazzi Le Olo di Thunder Nackle mi fanno veramente impazzire Impazzire, sono veramente fantastiche Vai Trick e trick e track e trick e troc Facciamo il trick Le Feon Oh, ce l'ho triplo, ma hai rotto le Feon Dragonair Abbiamo già trovato Dratini, Dragonite e Dragonite Oh, il gelato gigantesco ci mancava Vanilux, Vanilite No, Vanilux mi si è messi ama Boh, boh Questo che solo ricordo Oddio, non mi ricordo E boh, ragazzi Mac Mac Annaggia a sti nomi delle edizioni vecchie Proprio, raga Zero, re Zero, zero, zero Comunque c'ho dei DCBM fantastici Da farvi vedere Da Dark 98 Ci ha spedito delle full art fantastiche Anche da Pokéstar 3 Che saluto Ciao E niente Ci saranno bellissimi DCBM Dopo Tante Nackle Spiral Force Quindi Trick e track e trick e troc Ancora questo Che non mi ricordo mai come si chiama Comunque, bella Starry Voltorb No, non mi dì Tutti i doppioni qua dentro Un dragone qua E Nito King Perfetto Tutte uguali Cioè Tutti i doppioni Meste, raga Tutti i doppioni Ultimo pacchetto di oggi Che apriamo da sopra Magari Porta Fortuna Dita incrociate Dita incrociate Raga Dita Drita Drita incrociate Mi raccomando Drita Quassire Che ci mancava Ragazzi Bellissimo Questo Quassire Whittle Questo è la numero 1 Del set Grimer La numero 23 Paci Risu Fantastico Che sono dati I cristalli Qua fantastici E B-Sharp Che ci mancava Bene ragazzi Per questo video è tutto Box di Thunder Knuckle Seconda parte È concluso Nemmeno una ex Ah no Comunque Da Fai 95 E' tutto E Ho spostato la telecamera Porca vacca E Niente Questo video è tutto Ci vediamo al prossimo Video Parte del Box di Thunder Knuckle Ragazzi Vi sono impicciato Pollice in su Bella